Dopo l'uscita di Ryzen 9000, Intel, Core, Ultra, 200S, nome in codice, Arrolake, penso sia giunto il momento di fare un pochettino il punto della situazione e capire quali siano i migliori processori da comprare, non solo per l'ambito del gaming che so che è caro a tanti di voi, ma anche per quello della produttività e di tutto quello che ci sta in mezzo per chi svolga entrambe le professioni o passioni. Ad ogni modo iniziamo a vedere un pochettino quello che si può fare e che cosa comprare oggi secondo me bilanciando al meglio possibile il rapporto qualità-prezzo. Però se siete in alto mare con la vostra build vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete il nostro configuratore con intelligenza artificiale che vi proporrà sempre delle build spremute al centesimo, aggiornate e create sulla base della nostra conoscenza e competenza per aiutarvi a mettere insieme il vostro prossimo PC. È un servizio completamente gratuito e si basa su Amazon, quindi poi avrete anche tutta quanta la loro garanzia e servizio di assistenza, cosa molto importante, e permette di creare build bianche o nere, micro ATX, mini ATX o ATX, oppure di selezionare altre opzioni come preferenze su Nvidia, Intel o AMD in base a quello che volete all'interno del vostro PC. Oppure potete semplicemente far fare a lui e vi creerà tutto spremuto fino all'ultimo centesimo. Il link è giù in descrizione e supportate questo canale dandoci feedback oppure semplicemente utilizzandolo e completando i vostri acquisti senza un centesimo di più. Ora parliamo un pochettino di questi benedetti processori. Iniziamo dalla fascia che so che interessa un po' a tutti, il gaming, in quella che potremmo definire oggi fascia bassa, cioè processori che possono abitare magari la fascia dai 1000€ ai 1500€. Lo so che non è propriamente una fascia bassa per molti e non voglio dire che lo sia, però il configuratore vi aiuterà a fare le build sotto di questo budget. Siccome per la maggior parte del pubblico è un budget abbastanza richiesto, parto da questo. Sulla zona della fascia bassa quali possono essere i nostri candidati? L'altro giorno vi ho fatto un video dedicato a questo contesto e vi ho detto che effettivamente in questo momento se volessi fare una build bilanciata, pensata e ragionata, io vi direi di prendere il 7600 o il 7600X, processori che si allocano sulla piattaforma AM5 e che grazie a una semplice B650 e delle RAM da 6000 MHz DDR5 vi permettono di portare a casa una piattaforma che potrete portare poi avanti per ancora due o tre generazioni. Questo è un discorso molto importante che concludiamo a fine video. Ma il punto fondamentale è che AM5 in questo momento è la piattaforma più longeva, con più processori e con più possibilità in assoluto, ma soprattutto con all'interno molti prodotti molto validi e piattaforme che costano meno della concorrenza. Il 7600 è sicuramente un'opzione interessante, ma limiterà poi il nostro budget per quanto poi ci farà magari risparmiare sul lungo termine per quanto riguarda la selezione delle altre componenti tra cui in particolare la scheda video. Quindi l'altro giorno io vi ho proposto una cosa un po' folle, ovvero di prendere il 5700X3D, ritornare ad AM4 e se in realtà non avete grandissime pretese questo processore vi potrà accompagnare per veramente tanti anni. A meno che non siate quel tipo di giocatore che vuole fare 240 fps sull'ultimo gioco appena uscito, gioca super competitivo e aggressivo, il 5700X3D in realtà sarà in grado di supportarvi in tantissime esperienze di gioco, particolarmente se parliamo del contesto del 1440p dove viene ridotta una parte del carico del processore. Ora, un 5700X3D B450 o B550 abbinati a delle RAM DDR4 da 3600MHz permettono di creare una piattaforma low budget che onestamente spinge veramente ancora tanto nella generazione attuale. Tuttavia, se dovessimo fare i compiti a casa ed essere un pochettino più razionali, io vi spingerei verso la piattaforma M5 in maniera da poi poter potenziare il vostro processore in maniera adeguata e portarlo avanti fino alla fine di questo chipset. 5700X3D se avete quelle esigenze particolari che riesce a soddisfare, come budget, prestazioni che vi interessano, a M5 se invece pensate poi di voler fare un futuro upgrade senza dover cambiare la piattaforma. Fascia media, allora, in questa zona diciamo che ci sono diverse possibilità con cui possiamo approcciare i nostri PC da gaming, ovvero da una parte abbiamo sicuramente il processore più interessante assieme al 5700X3D degli ultimi anni. Sto parlando del 7800X3D. Un processore veramente incredibile che dai più recenti test che avete visto per esempio nella recensione dell'Intel Core Ultra 200S domina facilmente le classifiche andando ad allinearsi ai piani prestazionali di processori di fascia alta innettamente più costosi come l'i9 o i Ryzen 9, quindi di per sé molto interessante. Oltretutto, come abbiamo visto nella recensione, dà ampio filo da torcere anche alle più recenti generazioni di Intel, soprattutto per il fatto che i consumi in questo caso siano particolarmente bassi, nonostante l'efficienza migliorata di Intel nella nuova generazione, che ha fatto un po' anche da cavallo di battaglia per tutte le presentazioni. Il 7800X3D è sicuramente un processore molto interessante. Il suo unico problema è che in questo momento, un po' come tutti gli X3D, ha raggiunto dei prezzi abbastanza inaccessibili. Stiamo parlando di quasi 500€ su Amazon in questo momento e questa cosa un pochettino lo annichilisce, più che altro perché se prendiamo il primo processore più vicino nella fascia di M5, ovvero il 7700X, il suo prezzo è nettamente inferiore. E diciamo che il divario prestazionale tra i due non è così assurdo da giustificare magari 150 o 200€ in più, ecco, cioè non è quasi il doppio. C'è una buona differenza prestazionale, però il 7700X e il 7600 come rapporto qualità-prezzo per adesso si posizionano meglio. Se volete fare una build che spinga veramente tanto, il 7800X3D è il vostro candidato. Dall'altro lato però se giocate in 4K o in 1440p potreste valutare anche i due piccolini 7700X e 7600 per riuscire a ridurre un pochettino il vostro budget. In ogni caso tutti e tre questi processori sono facilmente allocabili su di una B650 di fascia media e questa cosa aiuta notevolmente a poter effettivamente risparmiare e creare una build più bilanciata che permetta poi di fare upgrade delle altre componenti o magari semplicemente aumentare lo storage. Dal lato di Intel invece di recente i 14000K stanno scendendo di prezzo in maniera abbastanza aggressiva, probabilmente perché c'è stata la recente crisi che ha visto, insomma, crash e tutte quelle cose che ha interessato questi processori e quindi di per sé l'interesse si è abbassato e i prezzi sono un po' calati. Diciamo che questi processori comunque si difendono bene, se prendiamo nuovamente i test più recenti dell'Intel Core Ultra 200S potete vedere come il 14700K, per esempio l'antagonista principale del 7800X3D, se la cavi particolarmente bene. Se avete in questo momento una piattaforma basata su LGA 1700-1800 insomma compatibile con i 14000 e magari avete un processore come un i5-12400, prendere un 14600K o 14700K potrebbe essere l'addio ideale per questa piattaforma prima di fare un vero salto di qualità, che in questo momento non è assolutamente garantito dagli Intel Core Ultra 200S di Arrolake, piuttosto dalla prossima generazione, non quella del refresh di Arrolake ma da quella successiva, Novalake, che dovrebbe essere appunto la prima generazione con processo produttivo 18A e fare veramente il grosso salto per Intel. Diciamo che prenderli stand alone in questo momento garantisce un piano prestazionale che più che altro privilegia chi giochi in 1080p, magari in maniera super aggressiva e competitiva. In generale potete notare da questi grafici che l'esperienza del 1% low su Intel è un po' più stabile rispetto ad AMD nonostante questa si posizioni meglio come FPS, quindi di per sé potrebbe essere interessante prendere questi processori qualora stiate cercando di bilanciare al meglio possibile questa piattaforma. Tuttavia con i recenti problemi di crash diciamo che un pochettino i 14000 secondo me hanno perso appeal e non andrebbero valutati più di tanto a meno che non si stia facendo un ultimo upgrade. Potrebbero essere interessanti ma il loro costo diciamo che non è neanche così tanto assurdo fuori da qualche evento che magari ha fatto calare un pochettino la combo di scheda madre e processore. Personalmente non sono un grande fan di Intel in questo momento. Hanno avuto i loro momenti di gloria però al momento AMD con Ryzen garantisce un qualità prezzo migliore su tutta la categoria dall'inizio della fascia bassa alla fascia più alta. Diciamo che questa fascia media compone anche quella che è la fascia alta perché di per sé se arriviamo alla fascia alta per una build probabilmente starete giocando in 1440p o addirittura 4k con schede come la 4080 super 7900 xtx o cose del genere ma anche se siete bloccati in zone come la 4070 super il vostro processore perderà un pochettino di responsabilità sul fornire prestazioni a meno che non saliate tanto di fps. Diciamo che per quanto comunque faccia piacere avere un processore molto potente per una questione di longevità a lungo termine le risoluzioni più alte fanno un pochettino annichilire quello che è il vantaggio concreto di processori del genere andando a darci quella che poi alla fine è un'esperienza abbastanza moderata con un po' tutto il parco che potremmo comprare. Certo la fascia bassa rimane fascia bassa e 7800 x3d gli 9 e cose così rimangono fascia altissima però di per sé diciamo che si affievoliscono un po' le differenze in questo caso abbiamo un po' più di margine di manovra. Poi dipende da quali giochi utilizziate dalla refresh rate da un gioco in particolare che magari può essere più o meno cpu intensive però diciamo che il 7800 x3d in 4k un po' sprecato ecco non sarebbe la mia prima scelta. Passando invece all'ambito della produttività ragazzi decisamente ci sono stati dei cambiamenti molto interessanti di recente si parte direttamente da quella che definirei fascia medio bassa ma più che altro perché la fascia media della produttività è solitamente più alta della fascia media del gaming nel senso che secondo me un buon pc da produttività dovrebbe partire intorno ai 1300 1500 euro come range ideale infatti anche il nostro configuratore ia è calibrato più o meno intorno a quella zona per quanto riguarda il budget minimo che sentiamo di consigliare al nostro pubblico. Di per sé per quanto riguarda la produttività bisogna fare prima di tutto una grossa premessa. Negli ultimi anni i processori stanno perdendo importanza nell'ambito del video editing ma soltanto in quello. Se utilizziamo un portatile come per esempio questi macbook che hanno un processore e basta usano un soc per fare tutti i calcoli di gpu cpu e integrano la ram di sistema come vram effettivamente il processore sarà importante ma perché parte di un ecosistema che svolge i calcoli. Però nel momento in che abbiamo un pc desktop al 90 per cento non avremo soltanto il nostro processore ma sarà accompagnato spesso da una scheda video e di recente tutti i programmi da vinci vegas premier e compagnia utilizzano maggiormente la scheda video per eseguire la maggior parte dei calcoli più importanti da render l'encoding a una maggioranza dei calcoli e micro calcoli che si fanno durante l'esperienza. Nell'ambito di photoshop invece il processore ha un'importanza maggiore perché nel fotoritocco nella grafica e cose del genere sono molto più importanti i processori in sé perché la tipologia di calcolo varia. A meno che non si parli di generazioni di immagini con intelligenza artificiale non accelerate sul server ma in locale di per sé i processori svolgono ancora un ruolo molto importante in questi ambiti ed è bene effettivamente sottolineare come per esempio in questi grafici come md in quest'ambito abbia un vantaggio veramente molto molto importante. Questo è estratto utilizzando il benchmark di Puget che effettivamente svolge la maggior parte dei calcoli che un grafico o un qualcuno che lavori con le foto si possano trovare a fare nel contesto del proprio lavoro quotidiano. Tornando a noi ragazzi allora per quanto riguarda i video editor pertanto io vi dico non che un processore valga l'altro però di per sé non è più il mondo in cui prendere un i9 faccia una differenza sostanziale rispetto a un i7, un Ryzen 7 rispetto a un Ryzen 9. Ci sono comunque dei benefici per esempio nella classifica di Premiere potete vedere come il 9950X abbia un dominio completo ma di per sé la maggior parte delle esperienze ve lo dico per mia esperienza diretta saranno assolutamente valide con un qualsiasi di questi processori potete stare tranquilli. La maggior parte dello sforzo sarà principalmente sulla scheda video. Mentre dall'altro lato per quanto riguarda Photoshop e poi tutti i programmi di grafica che possano far parte del pacchetto Adobe mi trovo a consigliarvi AMD perché in questo momento hanno un predominio prestazionale veramente importante non solo rispetto all'ultima generazione di Intel che sicuramente deve aggiustare qualcosina perché qui le prestazioni proprio non ci sono ma anche rispetto alle generazioni che invece potessero sfruttare maggiormente i consumi per riuscire a dominare questa categoria. Quindi di per sé un 7700X potrebbe essere per esempio un buon candidato per l'ambito del video editing da abbinare per esempio a una 4070 Super. Se la maggior parte del vostro lavoro si svolge invece nell'ambito dell'intelligenza artificiale il mio consiglio è assolutamente di valutare le schede video di Nvidia perché hanno un predominio prestazionale veramente importante. Non si vanno a paragonare le top di gamma con le top di gamma ma le fasce medie come la 4070 Super contro la 7900 XT o la 7900 XTX il che è veramente notevole Nvidia in questo momento ha un predominio totale nel contesto dell'intelligenza artificiale delle sue accelerazioni e dell'inferenza in generale. Se arriviamo invece alla fascia alta ragazzi secondo me il processore migliore in assoluto è il 9950X. Ha avuto un inizio assolutamente disastroso più che altro perché abbissato nel contesto del gaming da prestazioni veramente sbagliate. Dove effettivamente anche in alcuni titoli come per esempio Cyberpunk si arrivava ad avere un parco prestazioni in pari con il 7700 X. Veramente un grosso disastro. Dopo infiniti aggiornamenti questo processore è riuscito a prendere terreno in quell'ambito ma nella produttività in realtà è sempre stato un cavallo di razza, un vero puro sangue e ha dominato spesso le classifiche. Anche rispetto al 285K appena uscito potete vedere come effettivamente in alcuni casi domini completamente ma dove vadano testa a testa con prestazioni simili comunque non ci sia una differenza tale da essere considerabile diciamo a un punto a favore per Intel. Soprattutto ragazzi per due motivi principali secondo me. La prima cosa che dovete considerare è che i miei test con il 285K permettevano al processore di arrivare a oltre 300W e come potete vedere in questa clip di OCCT nel momento in cui vengono esposti a dei carichi maggiori se non si utilizzano gli Intel default settings possono arrivare a 290-300W. Mentre il 9950X ha un consumo massimo fisso di 200W che è onestamente molto molto più contenuto nonostante le prestazioni siano nella maggior parte dei casi superiori se non pari quindi di per sé un'efficienza decisamente più interessante se lasciati sbloccati ovviamente. Poi si possono fare con discorsi diversi se magari si manipolano Bios, Thunder, volte cose così. Ma soprattutto ragazzi è la piattaforma la cosa che mi spinge verso AM5 in questo momento perché ragioniamoci insieme. AM5 è uscito a fine 2022 e in questo momento hanno Ryzen 7000, Ryzen 7000X3D, Ryzen 9000 e stanno arrivando i 9000X3D. Quindi siamo a 5 generazioni, facciamo 4.5 perché gli 8000 non contano, con ancora 2 che devono arrivare e qualora uscissero i 10.000X3D che sappiamo che AMD tende ad allungare i socket soprattutto perché alle DDR6 ne manca ancora tanto e probabilmente non cambieranno fino ad allora, effettivamente parlando sono 8 possibili generazioni più tutti quei piccoli processorini che fa sempre per il canto del cigno AMD che potrebbero essere più o meno interessanti per determinati effetti di pubblico, con i 5000X3D per esempio. Intel dal suo lato che cosa ci offre? Arrolek, Z890, piattaforma già più costosa di una B650 e ci sono diverse B650 che sono perfettamente capaci di lavorare con i 200W del 9950X. Ormai le piattaforme sono sovracorazzate in maniera importante. Però ragazzi perché non mi convince tanto questa generazione di Arrolek? Perché in questo momento le loro prestazioni in produttività sono quelle giuste, effettivamente tolto Photoshop nella maggior parte dei miei test performano in maniera diciamo corretta, esattamente come ci si aspetterebbe da processori del genere. Ed è il gaming più che altro che li abissa. E anche se li aggiustassero e raggiungessero le prestazioni di un i9, di per sé non sarebbero poi troppo lontani dai nuovi Ryzen. Quindi di per sé non è che avrebbero questo grandissimo vantaggio. Tolte le temperature, quelle sono veramente ottime, ma ci arriviamo. Più che altro vanno messi su una piattaforma che è la Z890, ma se guardiamo un attimino la storia di Intel, come sono sempre andate le loro generazioni recenti? Intel 6000 e 7000. La prima era interessante, la seconda era ok. Intel 8000 e 9000. La prima era interessante, la seconda era ok. Intel 10100 e 11000. La prima era ok, la seconda era meh. Ci hanno tolto due core sul processore, lasciamo stare veramente. Meh. Gli 11000 dimentichiamoci. 12000, 13000 e 14000. La prima generazione è stata effettivamente una cannonata, ma più che altro perché arrivavano dagli 11000, che quindi di per sé era facile fare bella figura. 14000 non si sa neanche perché esistano. Oggettivamente parlando sono dei processori senza sapore, senza sale, senza niente al merito. Se non, appunto, quando scendono di prezzo in maniera talmente sensibile da contrastare a AMD. Adesso, più o meno penso che abbiate capito il pattern. Quindi, se questa generazione è quella che tecnicamente sarebbe l'esplosiva, perché cambia l'architettura, cambiano i consumi e tutto quanto, vuol dire che il prossimo refresh, anche se andasse bene con un più 10%, non è che ti sproni a cambiare da Intel Core Ultra 9 a Intel Core Ultra 9 o da 7 a 7, da 5 a 5. E la prossima generazione di Intel consistente sarà Novalake con i18a, nuovo processo produttivo. E secondo voi Intel lascia quella generazione così grossa, potente e rivoluzionaria sullo stesso socket? Non c'è niente che ci suggerisca che sia possibile. O fate un salto della fede, credete in Intel e sperate che Novalake sia su questo socket, oppure dall'altra parte potete invece valutare la roadmap già esplicitata di AMD e dire che se comprate oggi un 9000, un canto del cigno con per esempio i 10.000 X3D, se mai esisteranno, i 10.000 soltanto potrete farlo. O comunque prendere un X3D qualora vi interessa il gaming, se potete cambiare di fascia in maniera consistente. Non dico che AMD avrà ogni generazione una bomba pazzesca sempre meglio, però di per sé sicuramente la longevità quantomeno è garantita e le piattaforme costano di meno. Quindi di per sé io in questo momento Intel Core Ultra 200 non lo comprerei se non per due motivi. State facendo una build piccola e vi serve di poter gestire le temperature in maniera egregia. E se siete esperti di undervolt e di questo tipo di cose da BIOS e volete fare una build con veramente dei consumi e delle temperature bassi, veramente bassi, limitando per esempio i processori a 65 Watt, vi godete i vostri processori, ma di per sé avete comprato delle Z890 che costano veramente l'ira di Dio per poter usare dei processori che bisogna vedere a che livello prestazionale arriveranno, perché per adesso sono usciti in beta e io sono stanco di essere un beta tester. Questi ragazzi erano le mie conclusioni per quanto riguarda i processori. Spero di avervi aiutato nel vostro processo decisionale, vi ricordo che il configuratore è a vostra disposizione nella descrizione di questo video, lasciateci anche tanti feedback per aiutarci a migliorare, abbiamo implementato già i primi 55 che ci avete lasciato e stiamo lavorando per quelli più grossi che invece modifichino radicalmente la sua natura e quello che potete scegliere voi come utenti. Dateci fiducia che entro il 2025 questo prodotto sarà veramente una gran gran figata e grazie per il vostro aiuto e supporto di ogni giorno. Voi stati su MordenTech, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!